eccomi di nuovo qui con un nuovo video tutorial in questo video vi farò vedere come realizzare delle mini card utilizzando gli stickers perchè molto spesso capita che ne accumuliamo davvero tanti e non sappiamo dove impiegarli in questo caso io utilizzerò gli stickers per creare queste card da un cartoncino di 250 grammi ricavo un rettangolo che misura 13 x 16 cm cancello l'eccesso di matita e piego a metà la struttura vado a invecchiare sia all'esterno e sia all'interno della card scegliamo degli stickers in questo caso io li uso a tema natalizio iscriviti al canale grazie a tutti 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 12 x 7 cm 2 x 7 cm 3 cm 3 cm 6 cm 7 cm 7 cm 8 cm 7 cm 8 cm che misura 5 mm x 10 cm. Grazie per la visione! La procedura delle altre card che seguono è la stessa della precedente. Vi lascio la visione! Grazie per 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 la visione!